musica 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 anche vabbè l'eclissima quelli oddio vabbè sono diventato viola i funghi eh? sono diventati viola i funghi dove? guardami a vedere viola ma perché? forse perché c'è la luna di sangue ah oh ah fate proviamo a rompere qualche fungo per vedere se ci dà qualche seme no no ancora no dai facciamo un attimo così dopo magari perché adesso sono un po' interessato ai nuovi mostri i nuovi mostri strisci la notizia vedi papi la luna che fa è tutta rossa si la vedo la vedo ah ci sono anche quelle di terreno guarda quanto sono belli quelle del terreno non è mai capitata la luna rossa eh vabbè è normale non capita sempre eh non sono poi così difficili da abbattere eh no è facile però però c'è gli è venuta che dura di più la luna io io oh 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 no ah oh con il cappello però c'è un livello di un botto di moneta l'avevo detto che arrivava fino a poi e ricordi che avevo detto sì me lo ricordo io non ero lì bene ma mi sembri alla di senti proprio qua bello lì che schifo l'humore della carne che si schiaccia è normale sono gli oculi brutti sta forma formati ah bisogna entrati le zombie in casa no secondo me sono spawnate basta e voi che cosa fate in casa ci sono pure scocciate ah vabbè stanno salendo da qua e qua si sanno anche salire adesso sanno pure salire zinghari sono zinghari e che ti dico io vado in miniera ah vabbè poi questo giorno dopo ci dobbiamo fare una cosa io e te anzi torniamo direttamente giù e già ci incamminiamo c'è tutto un verme c'è di un verme? raffaio salire a barbecue vediamo adesso ci incamminiamo verso desti però è qua diciamo di chiudere la chiave prima di camminarci eh sì facciamo così però io non posso aprimi un secondo vai chiudi 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 mi difenda ok ah ho detto mi difenda ok andiamo alla sinistra ma di qua non alla destra va il biondino qua falta di tutto va il biondino qua falta di tutto va il biondino grillo fortunato un attimo vedo che vedo che adesso ti sei allenato sì però vai sali secondo me capi siamo in tempo la per il biondino la per il biondino vorrei dire però intanto magari proseguiamo con l'esplorazione ora non ti ho detto ma stiamo andando a fare un boss eh perfetto sono un boss come quegli altri eh no dovrebbe essere leggermente più facile sì infatti ne sto dubitando anche io delle mie parole ci credi manco tu quello che dici salta salta ciao 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 ciao